Ascoltate un tamburello che segna l'accento ogni due movimenti, così, così. Musica gagliarda, musica gagliarda, musica gagliarda, musica gagliarda, musica gagliarda. Quando l'accento divide il tempo in gruppi di due movimenti, il tempo si dice binario. Ascoltiamo un due, 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 un due. Ascoltiamo, ascoltiamo questa marcia e osserviamone il tempo, il ritmo, il tempo, il ritmo. Fate però attenzione ai colpi del tamburo. Fate però attenzione ai colpi del cassone. Fate però attenzione ai colpi del tamburo. Musica gagliarda, musica gagliarda, musica gagliarda, musica gagliarda, musica gagliarda. Gli strumenti a percussione producono suoni mediante percussione su membrane tese sopra una cassa di risonanza. In altri strumenti la corda invece viene pizzicata mediante la percussione di martelletti. Martelletti, martelletti, martelletti. Ascoltiamo, martelletti, ascoltiamo, 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 ascoltiamo. Martelletti, martelletti, ascoltiamo. Fate però attenzione ai colpi del cassone. Del cassone, del cassone. Fate però attenzione ai colpi del microtech. Fate attenzione a questo generatore elettronico. Martelletti. Musica gagliarda. Musica gagliarda. In altri strumenti la corda invece viene pizzicata mediante la percussione di martelletti. Martelletti è il pianoforte. Fate però attenzione ai colpi del pianoforte. Musica gagliarda. Musica gagliarda. Così bisogna aggiungere il pianoforte. Il panoforte. Il cassone, il cassone. Il cassone. Musica gagliarda. Musica gagliarda. Musica. Ascoltiamo, ritmica Ascoltiamo, martelletti Ascoltiamo, ascoltiamo Musica Gallarda Musica Techno Musica E un ritmo di danza E un ritmo di danza E un ritmo di danza E al tempo stesso Musica Gallarda Musica Gallarda Musica Gallarda Musica Gallarda Musica Law Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.